E' uscito un album della serie Via Assiago 10, ovvero le registrazioni effettuate nelle trasmissioni storiche di Radio Rai dedicato a Nicola Arigliano, l'artista che era un cantante jazz, che è un cantante jazz prestato al pop, inventò la musica confidenziale, ha compiuto proprio in questi giorni 85 anni. Ed ecco gli auguri di TG2.it ...della mia carriera, ma mi divertirò a cantare gli standards più amati. Dove? Al Cotton Club, che eseguirà questo concerto? Esatto. Grazie per averci seguito, Donatella Pandimiglio.